Approvato. Dopo un braccio di ferro durato oltre 40 anni, il brevetto unico europeo ha ricevuto il benestare dall'Europarlamento a Strasburgo. Dal 2014 sarà possibile registrare le invenzioni con un solo atto in tutto il territorio europeo. L'obiettivo è di rendere più competitive le invenzioni europee. A causa dei costi di traduzione, un brevetto in Europa poteva essere fino a 10 volte più caro che negli Stati Uniti. Secondo questo deputato tedesco, quest'accordo segna un gran passo avanti nell'integrazione europea. È un gran giorno soprattutto per le piccole e medie imprese europee più innovative, ha detto. Il brevetto unico potrà essere tradotto in inglese, francese e tedesco. Le tre lingue di lavoro europee, la Spagna e l'Italia, sotto Berlusconi, si erano chiamate fuori dal compromesso, ma hanno perso il primo ricorso alla Corte di Giustizia europea. L'eurodeputato Sergio Cofferati. Il governo italiano ha sollevato nel recente passato obiezioni sulla soluzione che si sta profilando per ragioni che riguardano l'uso della lingua italiana. Io penso che la posizione del governo italiano sia superata, anzi sia stato all'epoca un errore. Anche Confindusse ha sollecitato il governo italiano ad adottare il compromesso perché altrimenti le imprese italiane dovranno pagare due volte in Europa e in Italia per proteggere i propri brevetti. L'idea di un brevetto unico europeo, spiega la nostra corrispondente, è nata 45 anni fa ed è ora in realtà. Gli imprenditori apprezzeranno questo regalo specialmente ora in tempi di crisi.